Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Ma che è successo? Questo gioco è fatto con il culo, sai com'è? È fatto con il buco del culo, questo gioco. E' quello è il problema. E' quello il problema, cap'è? E' veramente il cancer. Due! Siamo a due! 510 ma ha cambiato la voce, aspetta, voglio provarla. Aspetta, voglio provarla! Ginnah! 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 Sveglia Ginnah! 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 Dai Ginnah! 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 Provo Ginnah! Provo Ginnah! Provo Ginnah! Ma che miseria, non so che 10 beats, troppo poco che sguido. Questo rap per i miei fratelli... Oh cazzo! Porco Dio! Fratelli! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Paro cazzo, mamma mia! S'chiappa mezza vita, scassa capa di chi ha venuto cazzotto a mocca! Mamma mia, te levo tutti i rienti a vocca! Facci cazzo! Non vuol gandalota! Vomino spork bastard! Si dà, chiappa mezza vita! Te faccio un culo tante, capito? Gandalota, spork bastard! Piazza e merda! Solo se ti scrivi in chat perchè se non levo la tastiera! E capite? Mi sciuro te conosce perchè non metto nome e cognom! Mi occupa a sta cazzo di piattaforma! Mi calmo, mi calmo! Vabbè! Mi sentivo da vista! Mi hai fatto la casuta! Non perlitto! Maggio, mi piace abbannare proprio a Cristo! O va per evitare poco a rinforzare! Piaf! Cazzola. Piaf! Cazzola. Maggio! asti sai, non lo tess! chi l'ha fatto? vediamo chi è stato che non so chi è stato Toghats 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 ora è Toghats 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 Ciao Zio Barca, ti mando un bacione, ti mando un salutone Ciao fratello, ciao bello, stammi bene Oh no, oh no Porco Dio Porca puttana Porca puttana Mamma mia La mia a 40 km da autonomia, tutti i giorni vado a lavorare da Fragola a Margiela Wow bellissima, mamma boh, romenno Mamma, riccia, 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 riccia Vai, vai, vai Oh, 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 vai giù E questa è la storia di filmmaker Iscrivetevi, iscrivetevi Micro, che c'era la storia di video Anche la comprensione Vai, vai, vai Oooo, oh, ooo, a giù Ate La temperatura durante la giornata sarà di circa 20 gradi. Durante la notte la minima sarà di circa 15. Mamma mia va giù. Basta, non voglio mettere più niente. Non voglio mettere niente. Basta. Non voglio fare niente più. Basta. No, 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 no. Mettiamo susto quando parte l'hype drain. Ho sentito il rumore, professore. Sì, anch'io ho sentito dei rumori. Io non ho domande. Saranno gli spifferi, signorini. Io non ho domande. Comunque, l'incantesimo è molto semplice. Mi basterà eseguire un movimento di bacchetta. Oh, not it sure. Oh, not it sure. Buongiorno. Eh, vai giù Sì, vai Eh, vai giù, sbagli pure Sì, è un 10 Sì, è un 10 Sì, è un 10 Sì, è un 10 Sì, è un 10